Musica Liberi.tv in questo momento sta per avvenire la consegna di una targa al comitato Pride, primo Pride Cosentino da parte di Scintille, la nota azienda che produce gioielli qui a Cosenza soprattutto, e vedete che stanno salutandosi i vari comitati e stanno salutando, e lì c'è la targa che fra poco sarà consegnata ai rappresentanti del Cosenza Pride che hanno organizzato questa manifestazione, eccoli tutti insieme che stanno sfilando, guardate il colore, guardate lì, eccoli insieme lì, ecco per dire si ha i diritti, anche Scintille ha aderito, sono Scintille colorate, sono Scintille che hanno aderito al Cosenza Pride, eccoli, guardate il colore, guardate la manifestazione di felicità e soprattutto di amore, che è un corteo bellissimo, un corteo bellissimo, guardate. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.